Acquisto numero 2 in casa Genoa nella sessione invernale calcio-mercato. Emil Boinen in arrivo dalla Salernitana, giocatore di 24 anni, 12 marzo 1999, data di nascita, piede sinistro, alto 1,85 m. Allora, come tipo di giocatore è un giocatore di centrocampo, centrocampo difensivo, diciamo così, è più propenso a difendere che ad attaccare. Codaccia di positivo, che recupera un sacco di palloni negli highlights che state vedendo qua sotto, lo vedete già all'opera. Ha anche di positivo che spesso trova anche i compagni con dei lanci lunghi, quindi ha anche un piede abbastanza discreto. Prova anche, e potrebbe essere anche uno che calcia le punizioni, quindi è un giocatore che può servire alla causa Genoa. Prende il posto di Cutlu, che è tornato in patria perché Gilardino non ha mai creduto nel giocatore e quindi viene rispedito al mittente, per cui Emil viene a sostituire questa mancanza centrocampo. Come già detto prima, piede sinistro, quindi centrocampo basso o fascia, male che vada. Però lui nasce appunto come incontrista, giocatore anche che ha la possibilità poi di dialogare con i compagni, quindi comunque può fare bene la causa. Io ci vedo una somiglianza con Strotman, un giocatore che copre, un giocatore che difende, ma che qualcosa di buono può anche farlo. Quindi per lui è un'occasione d'oro. Il Genoa lo prende con un prestito con obbligo di riscatto a 2 milioni in caso di salvezza. Molto strana questa trattativa dalla Salernitana. Acquistata a 3, rivenduto a 2, non si capisce bene la cosa. L'importante è che sia arrivata a noi. Anche perché è strano che una Salernitana ceda un giocatore a una squadra che lotta per la salvezza. Ecco, questo è molto strano. Comunque è arrivato da noi. Dobbiamo certamente stargli vicino. Gli auguriamo tutte le fortune. Dobbiamo sperare che questo giocatore non faccia rimpiangere Cutlu. Ora, Cutlu purtroppo ha fatto poco poco, quindi è difficile rimpiangerlo. Però vediamo se l'operazione fatta dal Genoa può essere un'operazione che possa portare a un futuro del giocatore in rosso-blu stabilmente. Quindi lo vedremo all'opera. Non credo che sarà già titolare a Salerno. Ovviamente non si sa neanche se saranno i convocati. Comunque vedremo. Quindi concludendo un po' questa scheda, perché poi essendo un giocatore nella hitmap che vi ho messo sopra, poi lo vedete, è lì a centrocampo, molto più vicino alla nostra porta che non a quella degli avversari. Però questo è il suo ruolo. Quindi diciamo che ha anche una storia che non è che si può raccontare più di tanto di cambio modulo, cambio ruolo. Quindi il giocatore è questo. Però è così, per far capire più o meno che giocatore possiamo aspettarci. Per cui facciamogli un in bocca al lupo, stiamogli vicino come tutti i nostri giocatori e aspettiamo i prossimi acquisti. Sappiamo che ci manca ancora qualche pedina, quindi vediamo la società. Benvenuto quindi a Emil Boinen e quindi aspettiamo il prossimo e forza Genoa. Grazie. 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 Grazie.